non vedo nulla non vedo nulla dove sono chi sono dove sono le mie palle io sto sperando a caso io spero di pigliarti ti posso shottare andre? no, non lo fare ti 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 prego il ginocchio ma ti posso uccidere? no ti dico i piedi proviamo e teo vita ma qui va a questo erro no è il mio ecco se un po' per me mi ha avvenuto indietro cosa che c'è un po' di droga interessante roba buona per te roba buona fai zitto intanto apriamo non c'è in questa casa fratelli questo santo c'è la poppa no dai usa la doppietta ok basta che non mi uscire vai vai a lavare su dici ok ok mi sto lavando oh oh perché tu ti becchi il gabinetto io mi becco questo bidet di merda mi hai spaventato lo sai credo che oh guarda un po' di televisione ok adeggiò per cazzo ok che è successo non so ma e non lo voglio sapere solo io qui ho avuto un flash che cazzo levo lu mi sta rovinando gli occhi basta che non spara il casaccio cazzo cazzo ma non lo so nemmeno io ok no ma ci vuoi andare è bloccata apri distruggiti non si distrugge vedrai ok questo è chiuso abbiamo con l'atteri aria pesante vediamo se si distrugge ora una cosa si fa con le finestre no che cacchio esatto no ok non vuoi fare domande qui c'è il film qui c'è il televisore volano 64 metto un po' di c 4 sulla scatola io ho tirato la gerazio prima vabbè andò un po' contro l'altra parte io c'è un quello fermo io utilizzo un trucco attuale torna indietro interessante vieni da me vieni da me come sei vieni da me utilizzo un il caro vecchio un metodo di half life e se si fa così e se si fa così e lo sai quale eh fatti ecco 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 semplice come mangiare una torta che schifo eh spero che esce uno zombie ti in cula non c'è quello da questa parte oh ok che cozzo ho trovato delle chiavi e che c'è la porta no clip usano no clip come si va così che what il televisore non sto più volando forza ma ci vuole solo stiletto interessante spacca. spacca lo sento io solo quello questo verso no no un televisore volante oh aperto vediamo ehm invece di sbattere il filetto la porta in faccia la porta in faccia la porta in faccia ehm ho trovato un altro che ho capito dove si usa queste chiavi la porta in faccia ti lo sbatte ok ma che cazzo ma che cazzo ma maledetto questi bambini con c'è una cosa luminosa prendila cos'è stato questo intero un oggetto ho trovato una vecchia che cazzo che da quasi se ti ha sfumato il migraggio è una cosa puoi distruggere questa cosa ehm puoi distruggere questa cosa vedo un tipo una sottospecie di porta ma che cazzo ma che cazzo ehi ciao questo ti volevo salutare ma fa il culo ma poverino dai ti voleva fare una sottospecie che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo basta no non vedo nulla non vedo nulla no no ahia chi mi ha bestato web bestardo mentre sto leggendo con qualcuno me lo leva a questa cosa divano ma secondo me dobbiamo attraversare questo fiume prova ma non guarirai tira il divano ok mu che cazzo che ho finito aspetta ti do la mano io aspetta tira questa cosa? dove? ah ecco tira questa ho fatto il divano ehm 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 che l'angelo a ferro ehm 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 ah ehm ah 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 non mi chiede per cui per l'italia stavolta la discarica sul posto ok il divano del ct auto di gioco noi tu non ecco ci sei fici cazzo ok ho capito cosa devo fare le due sete devi ingerire nel capannone che cazzo perchè prima la nota perchè dovevamo leggere prima la nota e puoi entrare forza andiamo avanti e levati te che cazzo andiamo avanti ma vaffanculo ma la finisci che cazzo e dove dove c'è ma la finisci con questi zombie anche c'è una montagna che cazzo che cazzo e c'è un'erba e va fumo no la sera è un pino caduto infatti le canne lo stesso colpino si si ma che cazzo si va oddio che c'è la sede eh spara ste cose vergogno la porta locket oh yeah the key questo si ricorda solure delle chiavi ah questa porta lo sto facendo da a distanza tranquillo che cazzo è compatto the romanov family house house questo è il clone della famiglia adams che c'è un piccino ho trovato un fantasma il tutto l'oggetto prendilo ehm che cosa ci legite oh ho avuto qualcosa ma la velocità finestra ho trovato vedo un kiss ho trovato tipo sotto l'abbandino delle chiavi a caso dove il triangolo porta il triangolo eh dov'è il triangolo io non so dov'era ok lo prendo io guardiamo sotto letti che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che quella è una cosa non guardare mai i segreti di una ragazza mi scuota guardiamo un po' questa stanza distruggiamo sta stanza per vedere cosa c'è non vuoi ci fa nulla ok c'è qualcosa nel bagno però un po' ho buttato nel bagno nel cesso con la bambola mamma mamma ok non serve secondo me uno di questi angoli che dicono occupato o se lo metti liquidato nella vasca no e se prendessimo attensi thank you ma prego prego sarei una donna messa ma prego l'ho si distrolla e se la scala 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 che angolo dove è il triangolo no si ha aperto ma forse serve il triangolo forse mc l'angolo è il bagno ah, lo prendiamo topo oh, un messaggio volante un messaggio volante, guarda magia eh, piglialo ok no, no cazzo mia colpa mia colpa oh, mi occupa il mento c'è una barca no, non c'è una barca assoluto a vera, andiamo andiamo muoviti muoviti la foto foto la parca mi sto sto muovendo con tutto spingi tuttana e senti, vuoi metterti la barca aia il cazzo da se la risulta se la risulta la marca e e se distritto la marca ero una barca evento ok hai chiuso il tempo no, sono solo che cozzo un foglio cosa c'è qui chiusa allora se quella chiusa come se ti potevo tenere a prendere o qui c'è una finestra non si vede nulla aspetta aspetta un attimo fammi tafkala pure c'è un tizio morto e ho spaccato la finestra vado fammi una cosa ok ti ho aperto il buco sale ok sale tipo io porti peschico ok faccio facciamo così saliti che ne sai che si può salire cazzo c'è uno morto c'è uno morto ma si è aperta la porta dentro cazzo cazzo generatore questo musica no questo mi piace in cio giorno giorno c'è una pistola prendila prendila pia la vera mi serve ok non me la fa prendere ma il culo l'ho presa cazzo perchè devi farlo a me non mi piace questa musichetta this is my phone questo è il mio ultimo attivo non posso non posso sentirla posso ma dai è un cammino cammino fuori per il testo di il testo di riguarda la sedia come dire per il testo di ora cosa una cosa c'è una telecamera qui fuori 1 1 1 se il successo è sparato qui c'è la propria foto ok io fissi le tue attività da qui ah la porta si aperta ah come c'ho visto gruuu cazzo ok non si è rotto tranquillo aspettami è già questo lagga tutto eh ma porca ok devi lanciarti salta aspetta mi sto sto laggando ma come se siete lost ma sto laggando ah no ok andiamo scala salto mortale dai salta patman io volo non salto ma batman non salto non vola cioè si con mantello si a caccio vola ok qui bisogna saltare no se io la qui lagga addirittura ma di verde controllo si e se questo paura si come se è morto come se è morto il che è giunto raggiunto superficie no c'è una radio qui cazzo cazzo ma non è sempre finito lo sai c'è 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 che cosa al fatto il cazzo 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 ma poverino cazzo Cazzo tutto il zango nel quadro ma sembra che la bambina sia ma guarda ma guarda la bambina adesso che cosa è fattu